Ciao a tutti! Eccoci qua, ritornati con un altro video Allora, questo sarà un video diverso Simpatico Da tutti gli altri che abbiamo fatto finora Ed è un video challenge Whisper challenge Sì E niente, visto che sono simpatici Sono un po' diversi Così è nel nostro genere, diciamo Allora, spieghiamo in cosa consiste In pratica, noi dobbiamo dire Una di noi tiene le cuffiette Con la musica a tutto volume L'altra parla E quella con le... Dice una frase Non troppo lunga E l'altra con le cuffiette A musica a balla Deve capire, leggere A balla A balla Leggendo il labiale Si è visto, si è l'acco anche lì Comunque Mi senti, mi senti Mi senti A questo non mi senti Mi senti Mi senti K Il 19 settembre, il 19 settembre, bravo, andiamo a vedere l'Egabu a Campobolo. Andiamo a Campobolo a sentire l'Egabu. Andiamo a Campobolo per sentire l'Egabu. Andiamo a Campobolo per sentire l'Egabu a Campobolo per sentire l'Egabu. Io devi lavare i piatti. Devi lavare i piatti. Devo lavare i piatti. Devo lavare i piatti. Lavare i piatti. Perché non hai la pasta viglie. Perché non ho? La pasta viglie. La pasta viglie. Però io non so cosa dire. Non so. Non so. Non so. Non so. Non so. Non so. Io non so. Non so. So. difficult. Desc Mi sento adesso un pochino No, ma queste cose loro non vanno bene Vai adesso che non ti sento La nostra trattata in grado ti chiama Dalla come cantante La nostra prof inglese mi chiama Dalla come Dante La nostra prof inglese ti chiama Dalla come cantante Sono un genio Quando tagli le cipolle Le cipolle Così non sento niente Quando tagli le cipolle Quando Quando tagli Quando tagli le cipolle Quando tagli le cipolle Ti piangono gli occhi Ti piangono gli occhi No, adesso ho sentito Perché è finita la canzone Non dobbiamo rifare Dai, devo ritrovare Non dobbiamo trovare delle frasi Ho saputo questa qua che dura un'ora e ci manda due minuti Aspetta Cambio frase Stiamo avanti Non cancellano questa Allora Quando guardi fuori dalla finestra Vedi uno camminare Vedi un gabbiano Vedi uno camminare Vedi un gabbiano Vedi uno camminare Vai a camminare Vedi uno camminare Allora Allora No, ho sentito anche una frase Quando guardi fuori dalla finestra Vedi uno camminare Vedi uno De l'ambulanza Camminare Camminare Tu lo rincorri Tu corri E tu lo rincorri Tu rincorri E tu lo rincorri E tu lo rincorri E tu lo rincorri Il giorno No, no Uffa Non capisco E tu lo rincorri E io lo rincorro Con una bicicletta Con la bicicletta Va bene Ah, è finito Mettiti le mani così che non senti veramente niente Però, cioè, bisogna trovare una frase difficile Sì, adesso ci penso io Ti metti la collata Ti metti la collata Ma che c'è niente? Ma che c'è niente? Che stai dicendo? I'm in love Ma poi Who is Who? No Un I'm in love I'm in love I'm in love Ma stai ripetendo la stessa cosa? Sì I'm in love I'm in love È inglese Of 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 Amelove Amore 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 Amor Amor Amboi Amorte I'm in love of a boy I'm in love of a boy A poem A boy I'm in love of a boy Of a boy Poem Boy Boy, che cosa è? Boy, boy Boy Boy, who lives Alive Non so Who lives I'm in love of a boy Who lives Who lives Who lives U U Ho capito quello Lives Who lives Inscura In Cool Cos'hai detto? In Scuran In Scuran Scuran Cos'hai detto? Cos'hai detto qualcosa tu? No La sento brutta Allora Lo scontro Lo scorso Lo scontro Lo scontro Fra Fra Boburn Burbur 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 E E E E E Ibrahim Ibradi Ibrahim 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 Lodi Notte Otte Lo scontro fra Non mi ricordo più il tuo nome Lo scontro fra Bubur e Ibrahim Lodi Lo scontro Lo scontro Non mi ricordo più Lo scontro fra Bubur e Ibrahim Lodi E Ibrahim Lodi Aspetta Lodi Aspetta Un attimo Cosa fai? Oddio Oddio Che paura Oddio Oddio No Oddio Oddio Aspetta che non è forte Ok Lo scontro Fra Bubur E Ibrahim Lodi Lodi Fu decisivo Fu disastroso Decisivo Decisivo Per il futuro Dell'impero indiano Per il frutto indiano Per il futuro Per il futuro Dell'impero Del melone Dell'impero 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 Indiano Indiano E E Accentò E No È finita Ok Lo scontro Fra E Ibrahim Lodi Fu Decisivo Per il futuro Dell'impero indiano Aspetta che non so Ti serve Uppi Aspetta che non so ufff 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 uff mmm letter D 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 Albanani! 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 Eh sì! Senti! Rendez-vous! 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 Rendez-vous, è giusto! Ilèv- Attentif! Lèv- Elèv- Addift! Rendez-vous! Ilèv- Attentif! Non ho capito niente Rendez-vous Elev attentif Rendez-vous Elev attentif Elev attentif Rendez-vous Elev 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 Attentif Attentif Au fenomen Au fenomen De la nature De la culture De la nature De la nature Rendez-vous Elev Elev Rendez-vous Elev Entendif Ou la nature Au fenomen Au fenomen de la nature 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 è meglio, vivere in un anno da leone piuttosto che cento scegliere scendere cento cento dente cento cento da da agnello cattoloni agnello agnello dilla dall'inizio dall'inizio è meglio vivere un anno da leone che cento da agnello ok Kiritu è il nome di un film il cui Kiritu è il nome di un film Kiritu 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 è il nome di un film è il nome di un film che guardava Filippo che guardava Filippo Filippo Kiritu 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 è che gli piaceva tanto E lo mangiava tanto E che gli piaceva tanto E che gli piaceva tanto Non capisco E che gli piaceva tanto E dice E che gli piaceva tanto E che gli piaceva tanto Così Così gliel'ho prestato Così? Gliel'ho prestato Gliel'ho prestato Dai ma dobbiamo fare delle cose più Sì, tieni Questa è difficilissima Aspetta Tutti dicono che ha me che lei con lui Tutti dicono Tutti dicono Tutti dicono Chi amme chi le cupò Tutti dicono Che le mie ragazzate Chi ama le ticopò Che amichele pippo q Che amichele pippo q Che amichele pippo q E' vero? Tutti dicono Che amichele q Che amichele q No, è impossibile, sai? Che amichele q 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 Tutti dicono Tutti dicono Che amichele q Che amichele q Tu ami? Io Tu? Io Adesso? Adesso Non capisco Perché io? Perché tu? Non sto dicendo niente Non sto dicendo niente Non sto dicendo niente Ti sto prendendo in giro Ma cosa dici? Ma nessuno vuole sapere? Cos'era? Che amichele? Che amichele q Tutti dicono che amichele q Che amichele q Che amichele q Che amichele q Dai no Adesso Mi devi ingegnare Che amichele q Che amichele q Che amichele q Che amichele q Ma La retta esterna La retta esterna La retta esterna La retta esterna Alla circonferenza Alla circonferenza Retta La retta Quando non hanno anche un punto in comune Dai No 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 Dai non so cosa fare Buonissimo ragazzi Questa è la Wister Challenge E adesso Visto che questi video ci piacciono molto Ne faremo delle altre Ok Spero che questo video vi sia piaciuto E Dai Vi faremo Non lo so Visto ci però se vi è piaciuto Dai ragazzi Dai dai Va bene Ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao